Volevo capire, quindi io ora dovrei fare una dichiarazione di voto sull'ODG numero 8, poi proseguiamo con il numero 9 e le chiederei gentilmente però di farsi garanti del regolamento perché da ora in poi non vorremmo che ci fossero queste interpretazioni creative secondo noi, quindi dichiarerò il voto favorevole dell'atto numero 8 perché è un atto di buonsenso che rispecchia i principi del Movimento 5 Stelle, che è questo atto così sintetico ma abbiamo scelto le parole corrette per dare il senso più profondo di quello che vorremmo nell'aspetto della riforma sanitaria, quindi nonostante la confusione dell'aula, nonostante l'orario, nonostante le tensioni, vi chiedo a tutti i colleghi di rientrare nelle file. provare a fare in modo che i lavori dell'aula si svolgano nel rispetto di tutti, quindi ripeto, voteremo a favore di questo atto.